Sabato 16 novembre 2024, un buongiorno da tutta la redazione di TRMH24 e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra edicola. Insieme leggeremo e commenteremo i quotidiani di taglio nazionale e locale e per l'appunto partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Riparte il dialogo con Putin, Scholz, un'ora al telefono con lo Zar, ferma la guerra, il disappunto di Zaneschi, la mossa dopo l'elezione di Trump, Berlino, manterremo i contatti, il pace solo con i nuovi confini. E si parla di politica, tensione sull'autonomia, Mattarella, io arbitro e ho firmato leggi che penso sbagliate. E ancora a Roma Margaret nel centro era proibito operare i genitori, mai più. Un ambulatorio medico sì, dove però si eseguivano interventi chirurgici non autorizzati. E in questa zona oscura che ha trovato la morte la 22enne Agatha Margaret Spada che a quel centro di Roma si era rivolta per un piccolo ritocco al naso. E ancora l'intervento del sindaco di Milano perché dico no al ritorno del nucleare. E in centro pagina la fotonotizia sui disordini, gli incendi, meloni indegni, la Schlein, solidarietà agli agenti, sangue sui volti dei politici, scontri ai cortei degli studenti, manifestazione violente in 30 città, scontri tra studenti e polizia, agenti feriti da un ordigno rudimentale, foto della premier Meloni e da alcuni ministri insanguinate. E parla la ministra Bernini, protestare è legittimo, questa è solo violenza. Ed ora guardiamo la prima pagina di Repubblica. Il richiamo di Mattarella, no ha troppo potere. Il presidente risponde ai giovani sulla democrazia e sul conflitto tra gli organi dello Stato. Le regole si rispettano, nessuno invade il campo di altri, ho firmato leggi che non condividevo. Salvini a Meloni, se cade l'autonomia, si ferma anche il premierato. E si parla della protesta degli studenti in piazza, scontri a Torino e poliziotti feriti. Gli attacchi alla polizia da parte di alcuni partecipanti al corteo studentesco di Torino sono inaccettabili, così come i manifestanti che fanno il segno della P38 o quelli che bruciano pupazzi in piazza. E ancora blitz di teppisti in sala per il film su Berlinguer. E si parla di Ucraina, Scholz telefonata a Putin, lira di Zelensky. Ed ora invece guardiamo insieme la prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno. Autonomia, K.O. Emiliano, dalla consulta stoppa le pretese del Nord. Sventato il referendum, ma tensioni nel governo. E ancora la cronaca, ragazzini killer per noia uccisero migranti a Bari. Arrestati in tre, due sono minorenni, l'omicidio per testare una pistola. E ancora Leporano confessa il figlio della 73enne trovata morta. Ho strappato il cuore a mamma. Tra loro un rapporto conflittuale. E la beffa delle azioni pop Bari, una maximulta agli ex vertici. A pagare saranno l'ex presidente Marco Iacobini, i due figli e tutti gli ex consiglieri e revisori in carica fino al 2015. Ed ora guardiamo insieme la prima pagina di Corriere del Mezzogiorno. Emiliano, dopo l'autonomia a destra in tanti, hanno gioito politica. Il governatore torna sulla decisione della Corte Costituzionale. Il ministro ora deve chiedere scusa. E ancora la consulta ha riscritto l'articolo sulla riforma. E in centropagina l'indagine ucciso dai ragazzi con la pistola. Tre arresti per il gioco mortale nel rudere di cieli del campo. Volevano provare l'arma modificata. Un senza tetto indiano usato come bersaglio. E dopo l'assassinio si misero a ridere. E ancora l'intervista a De Salvatore. Le challenge nella rete. Il vero pericolo. E a Leporano fa a pezzi la madre strappandole il cuore. Poi confessa il delitto. E in centropagina la foto di Alessandro Vogliaccio, difensore Goliador. Il genero di Sinisa tra Bari e Genova. Giocavo a pallone nella pizzeria di papà. E ancora devo guadagnare subito l'appalto. Foggia alle pressioni del funzionario prefettizio accusato di pilotare i lavori del cimitero. E all'ex manager dell'Ager pena di un anno confermata per Grandaliano. Ed ora sfogliamo insieme il Corriere del Mezzogiorno. In primo piano la politica, autonomia, le intese sono bloccate. Sulla legge Calderoli colpo da K.O. Emiliano dopo la decisione della Corte Costituzionale. Anche a destra in tanti hanno gioito. E l'intervista, la consulta ha riscritto l'articolo sulla riforma. Ora più facile legiferare. Il giurista Logroscino tracciata la strada. E ancora l'omicidio a Bari. Indiano ucciso per provare una pistola. E i ragazzini dopo il delitto ridevano. Il 38enne usato come bersaglio umano. Il fratello del boss temeva le confessioni dei giovani arrestati. E ancora si indaghi sulle dinamiche familiari. Ma con le baby gang non c'entrano. L'ex procuratore dei minori terrebbe indistinto questo episodio da altri casi. E ancora shock nel Tarantino. Si parla del delitto di Leporano. Insegnante di 73 anni uccisa dal figlio. Gli ho strappato il cuore con le mani. Aghiacciante omicidio in una villetta. L'uomo ha confessato. Volevo vivere con lei. E ancora Grandaliano. Un anno anche in appello. Condannato l'ex DG di Ager. Si fece pagare la cena del compleanno in cambio di informazioni sui lavori. Ed ora invece guardiamo insieme la prima pagina di Repubblica Bari. Morto Alcara. Nove medici indagati. Un uomo di 33 anni nella nuova Guinea. Aveva ingerito le pile. La rivolta per i soccorsi. E l'appello Ager. Un anno per l'ex DG Grandaliano. Pena sospesa. E la riforma. Casco, targa e parcheggio. Pronta la rivoluzione per i monopattini in città. E in centro pagina. Quei tre killer per gioco. Angel Illis è stato sconvolgente. L'intervista al governatore. Emiliano. L'autonomia. La legge Calderoli è finita. E il riconoscimento. Cantieri Green. Sicuri. Premiate. Sei aziende. Ieri il Poliba ha i suoi primi 34 anni. E ora ci apriamo all'Africa. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Ed ora sfogliamo insieme la Repubblica Bari. Si inizia dal caso. Dal grande viaggio alla morte del Cara. La tragedia di Bangali. in nove sotto inchiesta. 33 anni. A 20. Aveva lasciato la sua guinea. Sognando una vita migliore. A Bari però gli era stato negato il permesso. Il malore nel centro. Forse per un atto di autolesionismo. I soccorsi troppo lenti. Denunciano gli amici. E adesso indaga la procura. E invece si parla ancora. Continuiamo a parlare di in cronaca. L'intervista al procuratore aggiunto sull'omicidio a Ceglie. Angel Illis quel clochard per loro era un oggetto. Lo hanno ucciso per noia. Come molti episodi recenti non c'è stato alcun movente. La vittima era un bersaglio umano. La vicenda è terribile anche a causa dell'età di questi ragazzi. Oltre che alle motivazioni. E parliamo di politica. L'intervista a Emiliano. Autonomia. abbiamo sventato il disfacimento dell'unità nazionale. La legge Calderoli adesso non esiste più. Si potranno conferire alle regioni singole funzioni su questioni di dettaglio. E ancora l'appello. Ager confermato un anno per l'ex DG grandaliano. Ma la pena resta sospesa. E arriva la rivoluzione dei monopattini. Casco obbligatorio. Non parcheggio selvaggio. Se il senato la prossima settimana darà il via alla riforma ci sarà anche la targa e l'assicurazione. A questo punto il comune dovrà tenere conto di queste novità per i bandi futuri e anche per i 1500 mezzi esistenti sinora in città. Ed ora guardiamo insieme la prima pagina dell'edicola e dell'edicola dello sport. Anche qui si parla della tragedia di Leporano. Le ho strappato il cuore. Salvatore Dettori confessa l'omicidio della mamma trovata morta nel giardino di casa a Leporano. I particolari horror ricostruiti davanti al magistrato. L'ho uccisa perché mangiava carne umana. L'ex militare della marina Salvatore Dettori di appunto 46 anni l'omicida. E in centropagina sempre più morti sulle strade della Puglia. Uno dei tanti incidenti. Appunto lo vediamo qui in centropagina nella pagina centrale nella foto notizia. E ancora Bari l'omicidio del clochard per una prova. L'inchiesta danno erariale per un appalto alla regione. La conferenza Emiliano. Autonomia un totale K.O. E l'intervista per Canfora è una legge assurda. E in Basilicata Bardi finisce sotto attacco. Ed ora diamo uno sguardo allo sport con la prima pagina dell'edicola dello sport. Si parla di serie B. Novakovic è pronto a far volare il Bari. Non voglio più fermarmi. E ancora serie C. Il Foggia spreca a pari e a rete bianche con la Casertana. E ancora serie C. Potenza e Picerno sfide incrociate con le campane. La politica del presidente. Legge low cost. Giampaolo e Gotti i meno pagati della serie A. Ed ora invece guardiamo le prime pagine del quotidiano di Bari e del quotidiano di Foggia. Anche qui parliamo di autonomia. Emiliano, quel che rimane di quella legge è inapplicabile. La sentenza della consulta è inutile che Calderoli dica di volerla riportare in Parlamento. Piuttosto il ministro, che è un medico e non un giurista, rifletta con calma. E ancora in regione è contestato il danno erariale a due dipendenti per l'incremento della spesa di messa in sicurezza delle aree esterne degli uffici. Ed ora guardiamo la prima pagina del quotidiano di Foggia. Cade l'amministrazione leghista di Lesina. In otto mandano a casa il sindaco. I quattro consiglieri di impegno comune, tra cui la vice sindaca Alessandra Matarante e quattro di minoranza, hanno protocollato le dimissioni davanti a un notaio. E ancora a Foggia, il presidente della confedilizia Franco Granata, dubbi sulle politiche abitative. Ucraina è intesa tra l'università di Foggia e Dnipro, città, corridoio di pace. E a Manfredonia attività per migliorare il drenaggio urbano della condotta di viale Miramare. Ed ora invece diamo un'occhiata all'economia con la prima pagina del Sole 24 Ore. Cina, con il maxi porto in Peru, cresce il peso nell'America Latina. L'infrastruttura vicino a Lima attirerà circa 3,5 miliardi di investimenti. Le 15 banchine potranno gestire navi troppo grandi per il canale di Panama. E l'operazione di un miliardo di euro è nell'in Spagna, rileva dal gruppo Aciona 34 impianti idro e elettrici. Bene, questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo letto e commentato insieme. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.